5 Stelle in Comune, questo il titolo della manifestazione organizzata in Piazza Matteotti a Sciacca da parte del Movimento 5 Stelle di Sciacca, una manifestazione nel corso della quale si sono incontrati gli attivisti militanti alla presenza di sindaci eletti in Sicilia del Movimento 5 Stelle tra cui quello di Favara ma alla presenza anche di alcuni parlamentari tra questi Azzurra Cancelleri che al nostro microfono ci tiene a ribadire di non gradire del tutto la definizione di onorevole, sentiamo. Posso chiamarla onorevole Cancelleri? Preferisco portavoce o cittadina. Quindi voi confermate la vostra linea? Sì assolutamente, altrimenti diventeremmo semplicemente il solito partito e si rovinerebbe tutto. Ecco lei oggi qui anche per testimoniare la sua esperienza personale perché il vostro progetto è quello di parlare con la gente e prendere spunto dal rapporto con i cittadini. Sì assolutamente, noi siamo nati come un movimento fatto dai cittadini e rimaniamo un movimento fatto dai cittadini e quindi per noi questa è la linfa vitale, incontrare le persone, parlare con loro sia delle cose positive che dei problemi e ascoltare da loro quali possono essere le soluzioni a quello che la realtà ci impone. Lei sa che naturalmente a Sciacca tra qualche mese si andrà al voto, qual è il sospicio? Che anche in questo comune ci sia la lista del Movimento 5 Stelle ma già i ragazzi stanno abbondantemente lavorando e poi che i cittadini colgano questa opportunità di cambiamento perché Sciacca è una città molto importante ma è una città dalle grandi potenzialità che finora sono rimaste inespresse. Quindi è necessario cambiare rotta, ridare il governo a delle persone competenti e pulite e far rinascere finalmente questa città che è veramente bellissima. E sulla manifestazione 5 Stelle in Comune organizzata a Sciacca dal Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto un commento anche al deputato regionale Matteo Mangiacavallo, naturalmente soffermandoci con lui sulle aspettative in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno a maggio, proprio a Sciacca. Sentiamo, Matteo Mangiacavallo, 5 Stelle in Comune cosa significa nel concreto? Nel concreto abbiamo invitato quattro sindaci del Movimento 5 Stelle siciliani a raccontarci le loro esperienze, quindi 5 Stelle in Comune, in Comune nel senso che i nostri 5 Stelle mettono in Comune le loro esperienze. Ecco, si avvicinano le elezioni amministrative, c'è molta attesa per le vostre scelte, circolano tanti nomi ma quando conosceremo anche in virtù del fatto che voi avete portato avanti una serie di incontri con i cittadini dal titolo La Sciacca che vorrei, quando sapremo il nome del vostro candidato? Quanto prima, a noi interessa arrivare presto alla conclusione e cominciare questa che sarà una campagna elettorale molto difficile. Noi non guardiamo ai tempi però sarà molto, poi organizzeremo magari un'apertura delle buste come qui di fronte, che in concomitanza oggi siamo scelta felice o infelice della concomitanza con l'apertura delle buste del Carnevale, che sia di buon auspicio per tutti, che sia anche una bella serata per tutti.